Però voglio dire, le teniste, ecco, diciamo, io che ne vedo spesso e parecchie, non tutte fanno la figura che fa la pennetta, vestite da sera. Voi andate su Google e scrivete foto del master di questa, sono tutte le prime otto del mondo che sono in abito da sera. Non ti sono piaciute i mici, così vuol dire che non ti sono piaciute. No, dico però... Ma facciamo la panoramica anche stasera, dai con la telecamera, oh, ecco, ecco. Vedere la scarpa, vedere la scarpa. No, c'è un operatore Domenico che non aspettava l'ora. Guarda, 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 cioè, non... Vedi che poi la pennetta non è che si tira indietro quando si tratta... Ebbè, quando la... No, no, ma è giù... Allora ragazzi, parlo con Fabio e Sara che sono di là. Se la pennetta è la tennista ma una delle atleti italiane di gran lunga, con il più alto numero di follower su Twitter, perché siamo quasi a 100.000, un motivo c'è.